E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Esplodono di stupore, sospesi fra la terra e il cielo. Inciampano nel loro amore aggrappati ad un desiderio. Angeli con un'ala sola, l'altra che non c'è è la loro parola. Allora, dai! Ah dai, ora prendiamo qualcosa, vedrai che lo troviamo. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Alice, dai, stai tranquilla. Lo prendo la prossima volta. Dai, andiamo. Chissà quali sono le più buone. Guardi, queste qua e i cipolletti sono molto buoni. Sì, ma il cacao, grazie. Scusa tesoro, mi vai a prendere i cipolletti per favore? Scusi, sa dire dove sono i cipolletti? Se ne capisco qua, tanto. Grazie. Perché ecco. E' questo quello che volevi? Sì, dove va? Grazie. Alice, preparati! L'autismo è un disturbo dello sviluppo che insorge entro i tre anni di età. Colpisce dai tre ai quattro bambini ogni diecimila e compromette la capacità di relazionarsi con gli altri e di comunicare adeguatamente in diverse forme. I bambini con autismo presentano disturbi del comportamento caratterizzati da interessi e attività ristretti, ripetitivi e bizzarri. Tale condizione non impedisce loro di comprendere e di provare sentimenti ed emozioni. L'autismo è una grave patologia e attualmente non si guarisce. Anche tu puoi dare una mano. Anche tu puoi dare una mano.